Sono le 8.08 del 15 maggio 2023, mi trò qui sopra via dei Cappuccini, esattamente sopra qui c'è una piccola palesia, e miriamo il Comune di Trasacco, l'estrema periferia suddestra, ecco qui, c'è la strada provinciale che conduce al Comune di Trasacco, ecco il Comune di Trasacco, la montagna sopra il Monte Labrone, e questa qui area sottostante è Campamonte, guarda quanto è bella e meravigliosa, adesso io sto costeggiando la montagna, sta a fare l'arrampicata, si, è una che dica una cosa meno, guardate, vedete, bisogna stare attenti, perché questa qui è roccia fiabile, gli appigli qua, si, allora prima di avanzare, io procedo con moderazione, a proposito, non è che c'è una grotta qua sotto, adesso vedo